Ok, buonasera a tutti, sono qui per presentare questo framework che abbiamo sviluppato nella nostra azienda che si chiama Quantic Research, c'è il logo in alto a destra diciamo che questo framework è nato per creare interfacce grafica multitouch attraverso renderizzazione con API OpenGL e iniziamo dicendo, vabbè, innanzitutto chi sono io? Io sono il coordinatore del reparto R&D dell'azienda, noi siamo un piccolo distaccamento di Roma della nostra casa madre, Nivi Group e diciamo il mio compito è quello di progettare e sviluppare funzionalità che riguardano il nostro core business e la definizione dei processi di sviluppo del software interno aziendale Cominciamo appunto definendo che cos'è EQGE EQGE è il nome del framework che è oggetto del Talk è un framework che nasce per realizzare interfacce interattive multitouch su dispositivi di dimensione abbastanza elevata schermi 55-80 pollici, wall quindi non su tablet e applicazioni mobile ed è costruito per trattare molteplici flussi di dati contemporanei rappresentazione di informazioni complesse attraverso soluzioni grafiche non standard, non web-based, non tabulari ma dando più risalto a interfacce più innovative che definiscono paradigmi grafici che non sono quelli delle classiche applicazioni web e un'altra caratteristica ovviamente essendo un team molto piccolo cerchiamo di creare applicazioni complesse nel minor tempo possibile utilizzando Python il framework nasce a gennaio del 2015 quando la nostra azienda è stata costituita e la prima release è stata rilasciata diciamo in alfa internamente questo è un framework proprietario quindi rilasciato internamente a maggio 2015 nel frattempo diciamo sono stati fatti degli studi di fattibilità dell'analisi di mercato diciamo di quali framework fossero già disponibili e capire diciamo quali sono le feature che servono alla nostra azienda in quanto noi avevamo un target abbastanza specifico in particolare noi ci siamo focalizzati sul mercato enterprise quindi su applicazioni di comando e controllo del territorio di gestione di flussi di dati di supervisione di processi aziendali e quindi diciamo essendo un campo specifico dovevamo trovare qualcosa che matchasse diciamo i nostri needs e decidesse l'opportunità di sviluppare applicazioni complesse con un team ristretto di persone questi sono esempi diciamo di interfacce alla fine della presentazione poi mostrerò anche un video diciamo interattivo diciamo un video per mostrare diciamo anche un flusso di esecuzione interattivo adesso andiamo direttamente con le immagini fondamentalmente si tratta di applicazioni di gestione di territorio di sensori, allarmi, sicurezza questi sono vari esempi sia di applicazioni finite che di proof of concept che abbiamo realizzato noi cerchiamo di ovviamente dobbiamo avere un certo trade off tra dati grafici e dati elementi testuali che ovviamente sono comunque richiesti dai clienti finali cui vendiamo le nostre applicazioni e quindi dobbiamo avere un trade off appunto tra le informazioni grafiche e le informazioni testuali e nonostante diciamo ci siano applicazioni dove le informazioni testuali siano una buona componente cerchiamo di rendere la navigazione delle interfacce tramite il multitouch la meno complessa possibile per l'utente quindi l'utente deve uscire a interagire con pochi tocchi ad accedere a tutte le funzionalità per partire quindi diciamo all'inizio diciamo della nostra diciamo così avventura abbiamo effettuato una fase di analisi dove fondamentalmente ci siamo innanzitutto focalizzati sui game engine quindi potete immaginare Unreal potete immaginare Unity in questo caso diciamo che i game engine non rientravano nei nostri diciamo scopi perché la loro diciamo funzione è principalmente focalizzata per la scena 3D per gli elementi tridimensionali per la grafica per gli effetti mentre noi comunque avevamo bisogno di rappresentare molti elementi bidimensionali molti diciamo abbiamo bisogno di trattare dati complessi in formati eterogenei con delle astrazioni diciamo dovevamo fornire anche delle astrazioni abbastanza elevate di certi componenti agli sviluppatori per non dover prendere sviluppatori che avessero necessità di conoscere l'ambiente gravio quindi noi volevamo fornire agli sviluppatori delle API che dovessero diciamo permettessero di scrivere del codice che non dipendeva dalla chiamata OpenGL ma semplicemente da componenti come si fa diciamo solitamente nei framework di interfacce grafiche come ad esempio Qt per questo abbiamo analizzato anche dei framework che già presenti diciamo sul mercato uno di questi è Keyvai che è un framework in Python fondamentalmente il framework fornisce un'interfaccia ad alto livello che diciamo nasconde la maggior parte delle complessità OpenGL però diciamo come è stato strutturato non è sufficientemente sofisticato diciamo per realizzare applicazioni complesse utilizza diciamo dei meccanismi ancora troppo rudimentali quindi non propri di un game engine corretto quindi diciamo non diciamo fa budget di risorse non fa budget di tempi per il caricamento delle risorse quindi c'è il rischio che in un frame io carichi troppe immagini e faccio installare l'applicazione o comunque lascia troppa libertà agli sviluppatori sul gestire le performance di esecuzione quindi non fa controlli e quindi uno sviluppatore in un frame potrebbe creare troppe costruire troppe cose troppe elementi di interfaccia e quindi diciamo avere delle ripercussioni sul frame rate dell'applicativo e inoltre ha anche diciamo una poca qualità e performance nella gestione dei testi e nelle forme di base che per noi sono molto importanti in quanto comunque le informazioni che rappresentiamo sono soprattutto diciamo testi e forme di disegno vettoriale di base poi siamo passati anche diciamo per framework più standard come Qt che è un ottimo framework per interfacce bidimensionali la gestione del multitouch in questo caso diciamo non è sufficientemente complessa in quanto comunque Qt anche quando ho portato in ambienti mobile non nasce per gestire applicazioni dove ci sono interfacce innestate dove ci sono liste con sottoliste con altri elementi che possono avere gesture che vanno in conflitto tra loro che poi vedremo diciamo ne discuterò in altre slide successive e oltre a quello diciamo ha una poca flessibilità per creare effetti grafici personalizzati che vanno fuori dal suo paradigma se io voglio effettuare del post-processing su un'interfaccia su dei componenti Qt diciamo qui devi essere più aderente al loro paradigma e non uscirne troppo fuori e quindi abbiamo deciso di non utilizzare diciamo framework esistenti ma di creare qualcosa di nostro from scratch a questo punto diciamo ci siamo focalizzati innanzitutto sullo studio di architettura di un game engine quindi abbiamo diciamo preso a consulto diciamo dei libri sulla come si costruisce un game engine quali sono i principi di disegno ovviamente togliendo le parti che a noi non servivano come magari potrebbero essere effetti avanzati animazioni di personaggi tridimensionali quindi tutte certe parti sono state eliminate ma sono stati presi i concetti che sono comunque comuni anche alle nostre tipologie di applicazioni e inoltre c'è stato diciamo anche uno studio sui principi sui moderni principi di anti-aliasing perché fondamentalmente una volta diciamo fino a 10-15 anni fa l'anti-aliasing era semplicemente relegato al semplice multi-sampling dove si effettuava si moltiplicavano per 4 i samples che venivano catturati in ogni punto e si faceva la media di quei 4 punti e incrementando di molto la computazione invece diciamo adesso sono nate delle tecniche più moderne che permettono di fare anti-aliasing diciamo comunque qualitativamente efficaci ma meno computazionalmente meno complessi e comunque specifici per certe aree in quanto noi comunque utilizziamo strumenti di anti-aliasing specifici anche per le forme bidimensionali che sono più semplici e permettono una risoluzione analitica dell'anti-aliasing e inoltre abbiamo fatto uno studio ovviamente anche sull'interazione multitouch cioè come manipolare oggetti su uno schermo utilizzando una mano utilizzando più mani diciamo quindi è un grado di complessità leggermente più elevato rispetto al mobile dove magari su uno schermo si mettono uno o due dita quando si ha un'interazione con un'intera mano è difficile mantenere gli oggetti fermi sotto la mano mentre si manipola magari si ruotano si scalano potrebbero effettuarsi dei conti dove l'oggetto si espande troppo comunque va lontano e si allontana dalla mano stessa anche perché i frame multitouch ad alte diciamo ad alte dimensioni quindi 50-70 pollici tendono a essere meno precisi infatti molto spesso non sono capacitivi e sono infrarossi e quindi diciamo necessita di una maggiore cura nella gestione del multitouch ci siamo focalizzati fondamentalmente su un solo vendor di schede video questo perché fondamentalmente il mercato lo dice diciamo abbiamo scelto un certo mercato che è il mercato enterprise dove noi vendiamo la soluzione quindi noi possiamo dire al cliente di comprare quel determinato vendor di schede quel determinato marchio modello di schede video questo per evitare diciamo di dover gestire i problemi che hanno i game engine se tu scegli una scheda video md se scegli una scheda video nvidia l'implementazione del driver nonostante le api siano sempre le stesse potrebbe cambiare in certi aspetti e quindi dover scrivere diversi path di codice per implementare la stessa funzionalità noi diciamo essendo un team ridotto abbiamo deciso di prendere un solo un solo vendor in questo caso nvidia di schede grafiche per ridurre al minimo l'implementazione però abbiamo anche fatto uso diciamo delle api e pngl più moderne proprio per il motivo per cui noi forniamo la soluzione la scheda che devono comprare noi possiamo decidere quale sono le api che possiamo usare in questo caso non avendo problemi di retrocompatibilità siamo diciamo passati direttamente a utilizzare opengl 4.5 con estensioni di bindless texture direct access che fa parte della 4.5 e i buffer e soprattutto i asynchronous buffer transfer che sono delle tecniche molto comode per implementare diciamo rendering veloci multi thread per alcune diciamo per alcune casistiche e inoltre diciamo è stato anche implementato un supporto multi piattaforma nonostante diciamo il framework la maggior parte delle volte viene deployato su windows è anche disponibile una versione per linux in caso dovesse essere necessario vediamo adesso alcuni aspetti del rendering in particolare noi ci siamo focalizzati sulla problematica della correzione di gamma ovvero normalmente OpenGL per default lavora in correzione di gamma come lavorano diciamo tutti i software di manipolazione immagini solitamente la correzione di gamma che cos'è? sostanzialmente è una funzione che viene applicata ai canali RGB dove in questo caso se ogni canale ha un valore da 0 e 1 in floating point invece di tornare a ogni valore corrisponde lo stesso valore corrisponde viene mappata su una curva che effettua una compressione questo perché in 8 bit diciamo dove solitamente le immagini vengono mappate in canali da 8 bit quindi RGB 8 significa 24 bit per tutta l'immagine escludendo la trasparenza che non entra in questo campo avendo diciamo solo 8 bit se l'immagine fosse se i canali fossero codificati linearmente si perderebbe la percezione dei gradienti perché l'occhio umano medio l'occhio umano medio non percepisce la luce in maniera lineare quindi hanno diciamo dovuto adattare questa cosa e quindi creare questa funzione di compressione per adattare diciamo all'occhio umano medio e per creare immagini a 8 bit per canale senza perdere l'uniformità dei gradienti inizialmente tra l'altro questa la correzione di gamma è stata creata anche per gli schermi per contrastare l'effetto degli schermi CRT schermi CRT quelli vecchio modello insomma quelli non piatti a scristalli liquidi che avevano diciamo una gamma una risposta degli elettroni un certo valore che si esprime come curva di gamma 2.2 allora le immagini venivano codificate con una funzione inversa e quindi diciamo alla fine l'immagine finale risultava risultava corretta invece negli schermi LCD questa diciamo questa funzione di correzione di gamma viene imposta quindi è imposta diciamo nell'hardware e quindi fondamentalmente poi può essere anche modificata nelle impostazioni del monitor comunque fondamentalmente le immagini continuano a essere codificate in correzione di gamma e il monitor effetto la conversione inversa in uscita e quindi si ottiene l'immagine finale vediamo quindi fondamentalmente per risolvere questo problema hanno creato un altro problema ovvero quello della composizione dei colori cioè quando si lavora in correzione di gamma i colori quando vengono sommati o comunque quando viene fatta un interpolazione si ottiene un qualcosa che non è corretto perché matematicamente la luce nella realtà non si comporta con la correzione di gamma quella è solo la nostra percezione dell'occhio quindi quella correzione andrebbe applicata solo alla fine del passaggio tutti i passaggi intermedi di somma di interpolazione andrebbero fatti con il colore in gamma lineare e questo diciamo è fatto nel 99% dei giochi moderni fondamentalmente almeno per molte casistiche e questo si nota ad esempio nella generazione dei gradienti dove in questo caso ho preso un esempio diciamo ho preso un esempio da un blog che parla di questa tipologia di argomenti dove si vedono fondamentalmente per ogni coppia di gradienti questi qua sono generati a partire dagli stessi colori quindi il gradiente di sopra è realizzato diciamo con l'interpolazione in gamma lineare quello di sotto è realizzato con l'interpolazione in gamma corretta e si può notare che ad esempio nelle componenti di sotto alcuni colori risultano più scuri cosa che in realtà non è corretto perché io sto interpolando due colori che hanno la stessa luminosità e non dovrei avere nel mezzo diciamo colori più scuri rispetto alle due estremità e comunque fondamentalmente molte persone noi essendo abituati a vedere questo tipo di immagini non ci dà fastidio magari vedere l'immagine di sotto però può comportare problemi in altri casi come questo ovvero dove abbiamo un'immagine con semitrasparenza in particolare nel caso sinistra nel caso di sinistra abbiamo il blending gamma lineare e i colori effettivamente si comportano correttamente nel caso di testa se volete in alcune zone soprattutto sul rosso e sul blu in certe volte diciamo la luminosità del colore finale tende a essere più scura e questo perché è dovuto appunto al problema della correzione di gamma e quindi diciamo anche diciamo tutti i moderni rendering engine devono prendere in considerazione questo aspetto che ovviamente diciamo OpenGL fornisce già delle astrazioni per gestire diciamo questa per gestire un rendering in gamma lineare perché cosa significa gestire un rendering in gamma lineare sostanzialmente bisogna modificare tutta la pipeline del tuo renderer e prendere tutti gli input e trasformarli in gamma lineare o fare tutte le operazioni come si fanno normalmente e poi automaticamente OpenGL il risultato te lo porta in gamma corretto però questo significa che in fase di input devi produrre più computazione quindi ci sta diciamo del lavoro da fare quando si caricano le immagini ci sta del lavoro da fare quando si passano i colori perché i colori comunque i grafici te li forniscono diciamo come escono da Photoshop quelli sono corretti e quindi te li forniscono così quindi ci sta un lavoro di computazione da effettuare c'è anche un lavoro di memoria perché comunque lavorando in gamma lineare non si può usare l'RGB a 8 bit per canale ma vanno usati diciamo l'RGB a 16 bit almeno e quindi va utilizzata più memoria e quindi questo comporta diciamo che ci sia più computazione per GPU e più RAM della GPU che viene utilizzata anche se ormai nelle schede moderne questo non ha più tanto non è più tanto un problema in quanto le schede grafiche sono avanzate molto diciamo nell'hardware e quindi possono permettersi diciamo di avere diciamo di consumare un po' più di RAM e un po' più di computazione per effettuare questi conti un altro campo diciamo che è affetto da questo problema della gamma è il testo il rendering del testo in particolare sotto sistemi Linux se voi abilitate su FreeType il rendering RGB potrete notare che il rendering RGB se guardate bene da vicino i caratteri diciamo si vedono dei piccoli colori all'interno del vicino ai caratteri questo perché come funziona il rendering RGB del testo l'anti-alesing normale che in figura diciamo è quello a sinistra si parte da più a sinistra che è il testo non anti-alesizzato quindi diciamo avendo una bassa risoluzione si nota la seghettatura delle linee in diagonale la seconda linea più da sinistra è l'anti-alesing standard dove si creano diciamo delle scale di grigi per rendere la linea diciamo meno seghettata in ogni caso quando si mostra un carattere alto 10 su 10 pixel comunque si notano diciamo dei problemi perché i pixel non bastano non è sufficiente diciamo per fare un buon anti-alesing allora cosa si sono inventati negli anni 90? praticamente hanno sfruttato la costruzione degli schermi LCD che hanno per ogni pixel hanno tre led uno rosso uno verde e uno blu in particolare questi led sono messi con un certo ordine quindi viene prima il rosso prima il verde e poi blu la terza immagine da sinistra rappresenta la stessa diciamo come la prima la prima immagine però vista diciamo nell'ottica del sottopixel quello che loro chiamano subpixel quindi ogni pixel è splittato nella componente rossa verde e blu l'anti-alesing rgb permette diciamo di sfruttare questi sottopixel per creare una maggiore per avere una maggiore risoluzione in questo caso moltiplicata di tre per renderizzare per fare l'anti-alesing quindi loro non scalano solo in scalati grigi ma scalano con i colori rosso verde e blu dei pixel dello schermo questa tecnica è molto avanzata è quella che Microsoft chiama clear type che Apple ha integrato in core text permette la visualizzazione ottima dei glifi sugli schermi diciamo che abbiamo sempre visto anche se oramai diciamo per i device di piccola dimensione non c'è più questo problema perché oramai si sta andando verso il retina verso comunque dpi molto elevati dove non c'è più il problema della risoluzione ma il problema rimane diciamo sui device di grande dimensione come il 55-80 pollici che abbiamo diciamo tipicamente noi a che fare e in questo caso vedendo lo schermo da vicino il problema del testo si aumenta in questo caso per diciamo fare una composizione del testo corretta anche qui bisogna usare la gamma lineare perché se si fa la composizione in gamma corretta l'algoritmo dei pesi che calcola diciamo i colori sulle linee di testo non è non è ottimale e non produce diciamo risultati corretti infatti Microsoft Apple la composizione del testo in maniera corretta mentre Linux non è implementata nei vari framework e quindi si notano delle piccole frange di colore nel testo quando si abilita l'anti-elising RGB un altro problema un'altra classe di problemi che abbiamo dovuto affrontare è quella del multitouch ovvero sembrerà una banalità detta ormai adesso nel 2017 ma con grandi superfici dei pannelli o delle liste diciamo possono in questo caso prendiamo un esempio una lista verticale può ad esempio contenere degli slider mettiamo che abbiamo una lista con degli slider orizzontali allora ad esempio entrambi questi due componenti definiscono una gesture di drag perché la lista può essere scrollata verticalmente mentre lo slider può essere scrollato orizzontalmente in un approccio diciamo semplicistico uno si potrebbe dire che io do la precedenza all'oggetto che sta più davanti quindi nello z-order dello schermo dopo la precedenza se io voglio voglio dragare un elemento se sto toccando lo slider draggo lo slider ma che succede se però ho talmente tanti componenti dentro a quel pannello che non ho un punto per dragare la lista e quindi la lista come la scorro allora diciamo l'approccio più corretto in questo caso sarebbe che siccome la lista è dragabile verticalmente se il drag che sto effettuando è verticale vado a scorrere la lista altrimenti se è orizzontale vado a scorrere lo slider questo tipologia diciamo di chiamiamola di intelligenza che in realtà sono delle regole da applicare alla gestione del touch permette all'utente di avere una navigazione più naturale e inoltre potrebbero nascere altri problemi che succede se io metto più di un dito sulla lista si devono scatenare più gesture devo effettuare una fusione un clustering quindi come abbiamo approcciato la risoluzione di questi problemi che non sono problemi ripeto non sono problemi tipici del mondo mobile in quanto diciamo lì le interazioni sono molto semplici non ci sono interazioni complesse componenti complessi e quindi diciamo il problema non si pone in questo caso noi abbiamo implementato un motore centralizzato diciamo di regole che permette diciamo di disambiguare gestures con componenti innestati quindi fondamentalmente lo sviluppatore non si deve preoccupare di dover gestire queste complessità ma sostanzialmente riceverà le informazioni che il motore produce e inoltre gestirà anche questo motore gestisce anche il raggruppamento di tocchi quindi quando c'è più di un tocco che viene messo magari non nello stesso momento viene messo un tocco poi viene messo un altro il motore fa un raggruppamento e produce uno solo a gesture in modo che lo sviluppatore non si deve preoccupare di questi tagli tecnici e inoltre è in grado di calcolare precisamente le componenti di trasformazione questo è molto importante per come dicevo all'inizio per le gesture multitocco in quanto su elementi immaginate che io sono su una superficie sto scalando un'immagine ruotando e spostandola se io ho due dita posso diciamo avere una calcolare facilmente spostamento rotazione e traslazione per mantenere l'immagine sotto le mie dita se io invece ho una mano che si muove in maniera non uniforme magari si muovono tre dita in un modo due dita in un altro verso lì diventa più complesso effettuare questi calcoli e quindi abbiamo integrato un motore centralizzato che si occupa di calcolare le finali diciamo valori di rotazione traslazione e scala per quanto riguarda in caso di gesture con più di un tocco come diciamo ho iniziato a descrivere questi sono solo una parte dei problemi i principali il goal erano abbastanza ambiziosi all'inizio del progetto e essendo diciamo solo due persone a svilupparlo le persone comunque erano dedicate ai progetti abbiamo iniziato con un approccio ibrido dove a basso livello abbiamo creato un core costruito in C++ di funzionalità di base e ad alto livello invece abbiamo realizzato i sottosistemi i sottosistemi periferici e le API di alto livello in Python e facendo un'analisi continua dei bottleneck e degli applicativi che abbiamo cominciato a costruire abbiamo analizzato quali sono i punti deboli e abbiamo cominciato a portare in C++ le componenti che erano necessarie cui Python non poteva soddisfare i requisiti di performance implementandole o in C++ pure o in ibridi C++ Python attraverso Cytone perché siamo partiti da Python e non abbiamo fatto diciamo una scelta di altro linguaggio fondamentalmente le nostre applicazioni sono applicazioni che gestiscono dati che possono arrivare da molteplici flussi diversi immaginate ad esempio code sistemi a code magari fatti con un sistema Apache Java JMS oppure immaginate web service chiamate REST diciamo ogni cliente può avere il suo sistema fatto in qualunque diciamo formato possibile e Python diciamo permette di avere una flessibilità e un set di librerie che è in grado di interpretare tanti formati dati con poche righe di codice questo diciamo è molto importante per gli sviluppatori per sviluppare rapidamente integrazioni di dati diciamo molto diversi fra loro e inoltre avendo diciamo astratto la grossa complessità del framework all'interno del core del framework stesso gli sviluppatori in Python devono solo diciamo preoccuparsi di interpretare i format dati e gestire le logiche diciamo grafiche dei pannelli in senso diciamo ad alto livello orchestrazione quindi fondamentalmente tutte le logiche di upload sulla scheda grafica di ottimizzazione vengono fatte in background e nascoste allo sviluppatore e quindi permette diciamo di creare applicazioni non diciamo con codici abbastanza snello e però comunque efficaci e quindi anche in poco tempo le componenti ovviamente asincrone che sono presenti all'interno del nostro framework come diciamo in tutti i game engine non è possibile realizzarle in Python per quanto riguarda purtroppo il problema diciamo almeno nell'implementazione cpython standard perché il gil di Python non permette di avere il calcolo parallelo tramite multitrading se non per quanto riguarda IO ma in nostro caso diciamo sono più calcoli che IO e quindi diciamo abbiamo implementato in puro C++ diciamo alcune funzionalità di base del framework come il caricamento di risorse e immagini quindi caricamento di un'immagine da disco da rete dove si fa la trasformazione dalla gamma corretta a gamma lineare si interpreta il formato immagine si effettuano dei processamenti insomma c'è tutta una catena poi abbiamo diciamo implementato dei thread per la decodifica video in quanto comunque il nostro framework deve essere in grado di renderizzare video e flussi di stream immaginate telecamere uno vuole vedere un pannello con 6-7 telecamere deve essere in grado di renderizzare diciamo molteplici flussi video magari anche in full HD o in HD contemporaneamente e soprattutto produrre layout geometrie e glifi per elementi testuali ovvero diciamo tutte le etichette e i campi di testo che sono all'interno dell'applicativo sono asincroni cioè non vengono prodotti nel momento stesso in cui il proprietore lo chiede ma vengono processati in background e quando il glifo è pronto quando diciamo le risorse sono pronte vengono mostrate sullo schermo e questo è importante perché se uno caricasse diciamo un documento di testo di 20 righe magari l'applicativo si bloccherebbe per costruire layout diciamo di questo elemento di testo invece l'applicativo deve continuare ad andare avanti ma al massimo mostrare un loading e poi caricare effettivamente l'elemento di testo per fare questo oltre abbiamo dovuto inserire diciamo nelle ultime versioni anche dei paradigmi che sono standard diciamo nei motori nei rendering engine ovvero l'eliminazione di geometrie non disegnare geometrie che sono fuori schermo e non sono visibili diciamo nelle maschere di ritaglio in quanto comunque avendo cominciato ad introdurre elementi complessi la computazione in scheda grafica cominciava a diventare complessa diciamo cominciavano a diventare importanti e quindi abbiamo dovuto cominciare a introdurre sistemi asincroni per eliminare diciamo dallo schermo cose che non sono visibili cose che sono sovrapposte diciamo con meccanismi che sono tipici dei motori per i videogiochi quindi fondamentalmente quindi fondamentalmente per integrare le nostre applicazioni con QGE diciamo abbiamo realizzato diciamo anche delle componenti già asincrone che in questo caso lavorano con multiprocessing quindi diciamo avendo Python un buon framework per il multiprocessing che permette diciamo lavorare in maniera trasparente come se le classi fossero diciamo tutte nello stesso processo e in maniera abbastanza efficiente diciamo abbiamo realizzato dei wrapping sul multiprocessing di Python per fondamentalmente gestire processamenti potete immaginare da chiamate REST da WebSocket da canali Redis da diciamo una serie di fonti dati che noi tipicamente incontriamo spesso e quindi fondamentalmente tutti i dati vengono manipolati e gestiti dai processi esterni nel multiprocessing vengono creati i modelli costruiti fatti le validazioni e passate al processo principale per la fase di rendering questo diciamo è un esempio diciamo di workflow in questo caso è sincrono ovvero c'è un controller in un modello MVC dove viene a un certo punto viene startata una richiesta magari all'avvio dell'applicativo oppure su richiesta dell'utente viene chiamata uno stub un wrap del servizio REST che fa un dispatching al processo secondario che effettua la chiamata Http a quel punto la chiamata Http ritorna e viene fatto nel worker rest viene fatto un lavoro di parsing di perprocessamento viene fatto un dispatching al servizio REST il risultato viene tornato al controller che poi si preoccupa di aggiornare la vista grafica una procedura analoga viene in questo caso quando il dato invece è in push abbiamo appunto sempre un processo secondario che sta in ascolto magari su un server in questo caso abbiamo fatto l'esempio di Redis perché noi siamo anche Redis come sistema a code non è il suo scopo principale ma per comodità siccome lo usiamo anche per caching lo usiamo anche per gestire le code invia diciamo riceve un messaggio da Redis fa il suo processamento manda il dispatching verso il servizio il controller è già in ascolto diciamo si aspetta un evento dal servizio Redis e riceve il risultato e aggiorna la vista grafica in maniera diciamo di avere il processo principale più snello possibile questo è un esempio di chiamata rest molto semplice quindi ho fatto un esempio di implementazione di controller dove in questo caso utilizzo la libreria request classica libreria python per fare chiamate rest dove abbiamo un controller che ad esempio ha una chiamata che si chiama load all poise vuole caricare tutti i poise i point of interest di una mappa magari e effettua una chiamata sull'oggetto root root è l'oggetto principale del framework che si occupa di gestire il main loop e il calendario degli eventi in questo caso diciamo effettua una chiamata sincrona passando la funzione load poi process che vi harà eseguita sul processo secondario e riceve una callback quando la funzione ha finito sulla chiamata poi loaded in questo caso la funzione fa una cosa molto semplice ovvero scaricare dei risultati da una p rest e trasformarla in json a questo punto diciamo la funzione poi loaded deve solo verificare che il risultato sia corretto e che sia tornato qualcosa e chiamare la funzione load poi della sua vista diciamo a cui fa riferimento per aggiornare la vista ovviamente potete immaginare che nella load poi process può essere effettuato qualunque processamento posso scorrere negli oggetti creare degli aggregati fare delle statistiche utilizzare librerie analisi dati pandas o qualunque altra tipologia diciamo di analisi possibile in questo caso qua scusate che non si vede benissimo fondamentalmente abbiamo un pannello dove si definiscono delle gesture quindi qua facciamo vedere diciamo come vengono definite le gesture all'interno di QGE ovvero abbiamo un oggetto che si chiama dragable panel dove io sto definendo voglio definire un oggetto grafico che si può spostare in questo caso definisco due azioni add action drag and hold perché voglio definire la drag voglio definire una hold che tenendo premuto sul pannello il pannello ritorna nella posizione originale io all'abbio diciamo nel costruttore mi salvo la posizione originale del pannello nella variabile original pos in più diciamo tutti gli oggetti grafici definiscono due funzioni per le azioni che si chiamano action guess e action reject dove il framework invia invia una chiamata quando l'utente mette un tocco su quell'oggetto perché esistono queste due funzioni perché il framework se c'è un'interazione complessa un caso di conflitto da gestire non sa subito qual è il gear che può risultare vincente in un'azione immaginiamo il caso di prima della lista con uno slider innestato se io ho una lista con uno slider innestato e metto un tocco su uno slider io non so ancora qual è la direzione del drag quindi non posso decidere chi dei due oggetti avrà la meglio nella gesture allora che cosa faccio fondamentalmente aspetto che l'utente faccia un movimento quindi aspetto che al primo movimento dell'utente guardata una certa soglia spaziale decido qual è la direzione che l'utente ha preso per questa gesture quindi l'action guess viene sparato viene diciamo eseguito sia se fosse il caso della lista dello slide viene eseguito sia per la lista che per lo slide con il parametro foremost che viene settata true solamente per l'oggetto che sta più davanti più di tutti che è solitamente l'oggetto che si illumina quando immaginate su un telefono interagite con un oggetto quando lo toccate solitamente c'è un feedback per dare un feedback comunque all'utente in questo caso il framework lo permette attraverso la chiamata set css state in quanto diciamo noi abbiamo dei meccanismi di designing tramite css che permettono di settare degli stati quindi in questo caso il codice fa solamente setta uno stato attivo sull'oggetto e poi è il css che diciamo si occupa di modificare lo stato grafico quindi il tocco arriva c'è una gestura e lui si attiva poi potrebbero succedere due cose che il tocco effettivamente una delle gesture venga data a me oppure io vengo rigettato perché la gestura viene presa a qualcun altro che era in conflitto con me quindi l'action rejected definisce proprio quello c'è una chiamata che viene chiamata quando la gestura viene rigettata dopo la soglia spaziale di tempo per decidere se la gestura era mia oppure no viene rigettata in questo caso io semplicemente rollback il mio stato quindi mi rimetto attivo a false in caso invece la gestura vince quindi viene presa in questo caso una drag oppure una hold vengono chiamate le callback delle gesture e in particolare vengono passati dei parametri tra cui la tag che è semplicemente una tag che può essere un oggetto una stringa che voi potete usare definendo l'età codice quindi nell'add action potete dare una qualunque tag e lì viene ripassata è semplicemente un oggetto che viene messo in piggyback invece finish ed è importante per sapere quando la gestura è finita cioè questa è l'ultima chiamata che ti sta facendo perché l'utente ha lasciato il tocco quindi finish ed rappresenta quello e gli output invece è un dizionario di valori che sono diciamo personalizzati per ogni tipologia di gestura cioè ogni gestura definisce i suoi output in caso della drag se vedete nella chiamata drag l'output contiene la posizione precedente dell'utente quindi in questo caso io faccio semplicemente self.post più uguale la differenza dei due valori quindi in questo caso sono immaginate dei vettori bidimensionali che contengono la x e la y e io faccio semplicemente sposto l'oggetto sommando la sua post la differenza dei due vettori in più setto lo stato attivo a true se non ho finito se ho finito invece la setto a forze così lo spengo invece per quanto riguarda la hold io nella hold voglio tornare alla posizione alla posizione originale la hold ha due stati viene scatenata dopo tot secondi quindi se vedete nell'add action c'è un parametro seconds che definisce dopo quanti secondi scatenare la hold e quindi viene scatenata dopo un secondo che il dito rimane fermo sul gear sull'elemento grafico e quindi se la hold non ha finito quindi la hold viene sparata due volte uno quando scade il timer e l'altra quando l'utente lascia il tocco sull'oggetto in questo caso a me non mi interessa gestire il fatto che l'utente lascia il tocco sull'oggetto ma voglio fare l'azione effettivamente quando è scaduto il timer di un secondo quindi faccio un if cioè se l'azione non è finita e setto lo stato attivo a forze graficamente lo torno a posto e faccio partire un'animazione qui c'è un esempio diciamo di come noi abbiamo gestito le animazioni abbiamo un sistema diciamo di animazioni fondamentalmente a keyframe una serie di frame chiave nell'animazione un po' simile diciamo all'approccio che si usa in flash o comunque in altri in altri sistemi di animazione applicazioni grafiche che fanno animazioni dove definiscono le proprietà a ogni keyframe e definiscono la funzione di interpolazione e la durata dell'animazione stessa in questo caso duration è 0.4 secondi transition è out code ci sono delle funzioni di trasformazione tipiche che poi uno può anche aggiungere e crearsi le proprie e in questo caso quindi starto l'animazione e riporto con un'animazione l'oggetto alla sua posizione originale come vedete per fare questa diciamo questa interazione le righe di codice sono minime in quanto comunque gli stati grafici non sono diciamo sono solo costruiti sono settati da codice come valori booleani associati a delle stringhe ma effettivamente poi il lavoro grafico viene fatto nella parte di design che vediamo dopo diciamo vi farò vedere dopo come è effettuata quindi arriviamo appunto al design delle interfacce qui abbiamo visto la parte di codice che tipicamente serve per gestire i comportamenti per quanto riguarda la grafica delle interfacce noi abbiamo definito due linguaggi ad alto livello uno è il QGML che diciamo rappresenta una strazione simile a quella dell'HTML per definire gerarchie di elementi innestati tra di loro e l'altra è il CSS che diciamo abbiamo preso un sotto insieme del CSS con alcune funzionalità aggiuntive per permettere diciamo a una persona che non capisce di codice Python di mettere mani alle interfacce diciamo di fare creare stab di interfacce a cui i sviluppatori possono poi attaccarci i comportamenti sopra quindi il risultato finale diciamo di questo è che comunque il team di grafici che abbiamo noi può interagire attivamente in tutte le fasi dell'applicativo sia quando deve creare dei mockup sia quando deve modificare delle interfacce aggiungere animazioni perché le animazioni avete visto ad esempio da codice ma si possono aggiungere anche da CSS e anche per realizzare appunto degli stab veloci in caso uno deve fare delle prove deve fare delle verifiche è molto semplice per il grafico creare degli stab utilizzando questi due linguaggi e poi lasciare allo sviluppatore l'implementazione dei comportamenti questo è un esempio diciamo di definizione di interfaccia tramite XML a destra che noi chiamiamo QGML e CSS a sinistra in questo caso abbiamo implementato un login panel questo l'ho preso dal nostro progetto semplificandolo leggermente abbiamo un login panel dove è definito dentro una serie diciamo di elementi quindi abbiamo dei gear che il gear per default è l'elemento grafico nostro base quindi diciamo rappresenta la classe base di tutti gli altri elementi che per default non disegna nulla a meno che non è specificato diversamente da CSS vedete come ogni elemento diciamo viene posizionato viene messo l'origin che rappresenta il punto di origine perché possono essere ancorati in basso a sinistra in basso a destra al centro i gear diciamo hanno una serie di complessità poi definiscono degli identificativi perché poi da codice è importante poterli recuperare e anche da CSS diciamo valida e associargli dello stile questo diciamo è molto simile all'HTML infatti ci sono anche di un costrutto CLS che rappresenta diciamo la stessa la stessa diciamo la stessa casistica dell'HTML dove si può raggruppare nella stessa classe più elementi e avere diciamo delle proprietà grafiche comuni quindi diciamo questo login panel è stato definito da dei label delle text input che sono oggetti definiti dal framework e dei button ovviamente il framework permette diciamo a ogni oggetto che uno sviluppatore può definire in maniera perfezionalizzata di definire di avere la sua rappresentazione in XML quindi se io definisco un oggetto custom button che fa delle operazioni particolari io poi nel mio XML posso utilizzare custom button come tag e viene interpretato automaticamente dal framework questo in maniera che gli sviluppatori possono definirsi i loro componenti e utilizzarli negli XML tranquillamente a sinistra abbiamo l'associazione diciamo delle operazioni grafiche cioè della stilizzazione grafica dei componenti quindi abbiamo in questo caso il primo è cancelletto user circle con la sintassi uguale al CSS dell'HTML io prendo il gear che ha è come di user circle praticamente gli do dei posizionamenti dei bordi dei background color in questo caso abbiamo utilizzato anche nel background color abbiamo utilizzato le sintassi delle variabili che credo sia un draft dell'HTML non credo l'abbiamo ancora completato non mi ricordo esattamente questo ci è comodo per definire i colori come variabili spesso abbiamo delle size in questo caso come potete vedere ci sono unità di misura che sono strane che sono cm che rappresentano centimetri in quanto comunque noi abbiamo come unità di misura solitamente utilizziamo i pixel per alcuni elementi delle interfacce essendo diciamo schermi molto grandi abbiamo necessità di definire le cose in misure reali perché fondamentalmente immaginate ad esempio una tastiera una tastiera su uno schermo multitouch di 84 pollici se voi la disegnate in pixel su un 84 pollici la vedete in una certa dimensione su un 24 la vedete in un'altra dimensione quindi la stessa applicazione che gira su due schermi diversi risulterebbe strano all'utente da utilizzare magari su uno schermo 84 pollici avrebbe dei tasti enormi quindi sarebbe difficile fare una effettuare una composizione diciamo delle scritte su una tastiera di quelle dimensioni per questo diciamo utilizziamo la strazione dei centimetri i centimetri quindi in questo caso rappresentano la dimensione reale corrispondono ai centimetri reali che si stanno vedendo sull'interfaccia come è fatto questo calcolo questo calcolo è fatto semplicemente recuperando dal monitor le informazioni dei dpi allora diciamo che la maggior parte dei monitor moderni offrono diciamo gratuitamente l'informazione dei dpi e quindi tu puoi calcolare in ogni momento puoi sapere quant'è la dimensione reale in centimetri quindi sai quanti pixel corrispondono a un centimetro e quindi puoi fare questo calcolo in maniera trasparente può capitare che esistano dei monitor un po' più brutti diciamo chiamiamolo così che non te la forniscono in questo caso è l'installatore che manualmente va a mettere la diagonale dello schermo quindi una volta che lui sa quanto è la diagonale dello schermo in pollici il framework si fa i calcoli e quindi capisce quanto è la dimensione in centimetri comunque per la maggior parte il 90% dei casi la dimensione in centimetri è calcolabile automaticamente a partire dalle informazioni che il monitor distribuisce nell'edit quindi diciamo ci sono dei componenti come potete vedere anche le font size in caso delle validation label che sta sotto può essere definita in centimetri quindi avere dei fonti che non dipendono dai pixel dello schermo ma sono sempre alti alla stessa maniera quindi in questo caso è il grafico che decide fondamentalmente se utilizzare dimensioni in pixel o dimensioni in centimetri oppure in percentuali come si fa anche in html quindi supportiamo anche le percentuali come potete vedere ad esempio per definire dei background immagini si usa la classica sintassi url per caricare le immagini e abbiamo usato delle sintassi simili anche per i video e per altre diciamo tipologie di oggetti anche come i pdf e in particolare nella parte user image c'è una filter lì che diciamo rappresenta abbiamo cercato di rendere anche in css dei comportamenti tipici dei composer dei programmi di composizione grafica c'è anche l'html queste funzionalità c'è anche il css moderno ovvero la possibilità di fare composizione di colori non in modalità alpha blending come si chiama diciamo nei videogiochi standard ma anche di definire filtri di addizione filtri di moltiplicazione di somma darken tutti i soliti filtri che si usano in photoshop che sono diciamo utili per i grafici queste cose non noi usano i sviluppatori ma i grafici questo è il risultato finale diciamo dove abbiamo diciamo i due text input la login il bottone di login la label che stava lì e l'icona dell'utente quindi fondamentalmente è il risultato finale diciamo di quelle due schermate quindi senza scrivere una riga di codice io sono in grado di costruire diciamo un pannello che permette diciamo al grafico di avere un risultato immediato finale senza dover aspettare lo sviluppatore che sviluppi diciamo poi l'interfaccia sotto per quanto riguarda QGML e CSS qui ci siamo diciamo affidati a Python in quanto comunque per costruire questi diciamo questi parts abbiamo avuto poco tempo e quindi abbiamo dovuto fare dei prototipi veloci utilizzando funzioni utilizzando libreria Python standard lxml per xml oppure tinycss per l'impostazione css che è stata un po' modificata per diciamo sono stati creati delle aggiunte per le nostre per le nostre diciamo esigenze comunque questo non ci provoca dei problemi in quanto i file QGML e CSS vengono caricati all'avvio e indicizzati quindi una volta che sono caricati dall'applicativo rimangono in struttura dell'applicativo questo esempio è un caso per cui noi abbiamo deciso di non passare tutta l'implementazione in C++ perché ci avrebbe portato io un sacco di tempo perché comunque non avrebbe diciamo avuto un grosso impatto perché alla fine è un tempo che paghi solo all'avvio magari pagare due secondi in più all'avvio per noi non è così importante per un'applicazione che deve stare accesa 24 ore su 24 a monitorare un sistema quindi questo è un caso appunto dove abbiamo deciso di mantenere l'implementazione Python e non passare diciamo l'implementazione in C++ che è più complessa poi abbiamo delle componenti speciali in particolare ogni progetto come diciamo poi vedremo magari in qualche esempio live dal video ha una serie di componenti tipicamente messi al centro come nei game engine come nei videogiochi che possono rappresentare elementi che non sono descrivibili come interfacce ovvero come dei CAD visualizzatori CAD interattivi con un supporto telecamera oppure mappe vettoriali con gestione di allarmi scene tridimensionali abbiamo diciamo un piccolo supporto per scene tridimensionali e queste tipologie di elementi diciamo non essendo fondamentalmente estraibili diciamo nella sintassi XML e CSS vengono tipicamente realizzate dalla parte diciamo dal team R&D dell'azienda e vengono realizzate attraverso chiamate OpenGL a basso livello quindi vengono si creano diciamo una serie di meccanismi modelli di telecamere con supporto diciamo delle gesture multitouch effetti avanzati di post processing che sono diciamo realizzati ad hoc gli sviluppatori diciamo li utilizzano solamente noi forniamo delle API ad alto livello per questi componenti ma li realizziamo all'interno dei progetti magari poi riutilizzando delle parti di codice quindi queste non sono astratte ma sono semplicemente innestate all'interno dei progetti dove serve e quando serve fondamentalmente in più diciamo ci siamo anche occupati diciamo di realizzare tutta una serie di strumenti di tooling di tool a supporto dello sviluppo avendo realizzato comunque un framework da zero lo sviluppatore deve avere diciamo a disposizione una serie di strumenti che nei normali framework si hanno ovviamente non abbiamo potuto realizzare qualunque diciamo qualunque cosa abbiamo realizzato diciamo focalizzati su alcuni aspetti peculiari ovvero la produzione di asset grafici in quanto il nostro framework fornisce diciamo un tool per ottimizzare il caricamento degli asset grafici in produzione quindi non vengono caricati da immagini png ma vengono creati dei pacchetti di asset come si fa diciamo solitamente nei videogiochi un inspector in tempo reale dell'interfaccia grafica un po' simile diciamo a come funzionano gli inspector html all'interno dei browser dove uno può selezionare l'elemento può navigare la gerarchia in tempo reale vedere gli stili a cui sono applicati gli oggetti e tutto quanto e un creatore di pacchetti di installazione automatici ovviamente per i deploy diciamo semplificati anche diciamo strumenti accessori come editor di mappe vettoriali in quanto diciamo abbiamo realizzato diciamo ultimamente una componente di rendering di mappe vettoriali in questo caso diciamo abbiamo dato un editor al grafico per permettere di personalizzare i layer e gli stili grafici direttamente live all'interno dell'applicativo senza doverlo fare in offline e poi provare le cose a posteriori detto questo diciamo quali sono i nostri sviluppi futuri attuati diciamo quali prevediamo diciamo di effettuare ad esempio c'è la standardizzazione di alcuni effetti di post processing noi utilizziamo all'interno degli applicativi degli effetti di post processing come ad esempio il blur che viene usato magari vedete ad esempio sugli ipad sui tablet dove ci sono alcune schermate che effettuano il blur diciamo della componente di background invece di usare un colore puro di usare una semitrasparenza ecco questi tipi di post processing tipicamente sono implementati in modalità diciamo custom dove viene creato un gear apposito dall'RND e viene messo diciamo nell'applicativo queste fasi noi cercheremo di astrarle sempre di più per dare diciamo più possibilità agli sviluppatori di avere questi componenti già pronti senza che diciamo dobbiamo intervenire noi e inserirli negli applicativi e ovviamente anche un'espansione delle primitive di disegno vettoriale non ho parlato nel dettaglio del disegno vettoriale comunque fondamentalmente noi abbiamo una serie di strumenti che permettono di disegnare linee rettangoli cerchi potete immaginare un piccolo sotto insieme dell'SVG quello che noi cerchiamo di fare ovviamente è di arrivare a matchare sempre di più le primitive di disegno vettoriale perché fondamentalmente poi sono le primitive con cui i grafici effetti diciamo fanno il disegno dell'interfaccia quindi più potenza diamo ai grafici e più espressività le nostre applicazioni possono avere e ovviamente il numero 3 è uno delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare che è quella di realizzare dei designer ovvero attraverso i grafici è vero che possono testare le cose senza applicare codice però in ogni caso loro devono modificare gli XML a mano i CSS a file e poi vedere il risultato facendo il play dell'applicativo e abbiamo anche delle possibilità di ricaricare a runtime il CSS e quant'altro però la cosa comoda sarebbe avere un designer drag and drop un po' stile Qt Creator insomma come tutti gli framework di interfaccia hanno questi sono alcuni riferimenti che noi abbiamo su cui noi ci siamo basati per fare diciamo le nostre analisi tra cui Game Engine Architecture che è un libro diciamo molto famoso che descrive architettura videogiochi OpenGL Insight sono una serie di diciamo di processi avanzati con le moderne grafiche con le moderne API OpenGL quindi diciamo una serie di casistiche che esistono diciamo che si possono implementare che si possono implementare per costruire diciamo framework moderni e tutta una serie di altre diciamo altre informazioni sul font su come si fanno diciamo su come si fanno i calcoli sui colori e anche l'ultimo ad esempio sulla manipolazione di oggetti grafici in due dimensioni e tre dimensioni quindi diciamo siamo basati su tutti su una serie di articoli che sono diciamo misto diciamo negli ultimi 10 anni fondamentalmente che rappresentano una buona base su cui partire per fare diciamo un framework di questo tipo e adesso diciamo prima delle domande vi faccio vedere giusto un attimo un video diciamo per avere qualcosa di più diciamo un'idea più precisa diciamo di quello che fanno gli applicativi effettivamente purtroppo la qualità dello schermo non è grandissima però però si vede un po' scuro ovviamente questi sono applicativi diciamo questi qua sono demo con dati anonimi quindi non sono reali però l'applicativo è reale fondamentalmente diciamo di gestione del territorio dove abbiamo diciamo la possibilità di interagire con più elementi dove ci sono allarmi presenti sullo schermo pannelli diciamo complessi dove abbiamo caricamento in tempo reale di flussi asincroni abbiamo diciamo caricamento di CAD di edifici telecamere di videosorveglianza e tutta una serie diciamo di applicativi che adesso vi farò vedere diciamo più avanti nel video e qua diciamo fa vedere una serie di interazioni diciamo che il framework permette di fare in maniera naturale come ad esempio telecamere PTZ che possono essere controllate con gesture invece che magari con bottoni su un browser o altro tipologia di interazione qui diciamo ci abbiamo degli esempi più da vicino delle interfacce quelli sono allarmi che rappresentano i sensori che si sono allarmati sulla mappa oppure in questo caso abbiamo visione dello storico delle telecamere quindi scelta di un time lapse e di un time range e la visione di uno storico di una telecamera adesso aspettiamo un attimo che va avanti il video abbiamo ad esempio analisi dei rischi questo è un esempio di componente speciale dove abbiamo realizzato ad esempio analisi dei rischi sulla mappa mostrando delle statistiche tridimensionali sopra il territorio oppure gestione di elementi tridimensionali come potrebbe essere un edificio con gerogalizzazione degli elementi delle persone all'interno generazione di allarmi in tempo reale e tutta una serie di casistiche di supervisione ovviamente questi strumenti non sono fatti per data entry ma sono fatti per supervisione in questo caso abbiamo invece gestione del traffico ovvero traffico in tempo reale che si muove sopra una mappa dove si monitora le zone di congestione e potete immaginare molti tipologie di utilizzi per questi strumenti che noi cerchiamo di offrire fondamentalmente ai nostri clienti cerchiamo di avere un approccio più innovativo alla gestione del problema della supervisione di sistemi complessi vediamo questi sono esempi di pannelli che potrebbero apparire quando si aprono dei sensori magari si sta monitorando una serie di sensori una rete di sensori e si aprono dei pannelli uno si può gestire i pannelli aprirli e chiudirli con delle gesture molto semplici oppure fare dei filtri sui livelli d'allarme come sta facendo l'operatore oppure vedere analisi come abbiamo visto prima dei grafici all'interno direttamente degli oggetti diciamo magari con elementi dimensionali oppure applicativi dove si magari si consultano delle informazioni testuali e metadati associate in maniera diciamo in maniera più in maniera diversa diciamo più grafica dove abbiamo una serie di metadati che sono rappresentati magari con delle infografiche non standard non comuni e vengono diciamo vengono realizzate tramite grafi tramite mappe e poi uno può arrivare diciamo a navigare informazioni complesse e arrivare all'informazione finale che poi viene aperta e uno si scorre diciamo come se fosse una pagina web poi alla fine arriviamo sempre all'informazione finale perché l'utente è sempre interessato ad avere l'informazione finale però ci arriviamo in altre maniere fondamentalmente non so che ora ho fatto comunque ho finito ho finito grazie a tutti grazie a tutti